Un'operazione da 15 milioni di euro per aiutare un produttore televisivo del peso di LuxVide e il cardinale Tarcisio Bertone finisce di nuovo nella bufera. È il giornale tedesco Bild a parlare di un'inchiesta vaticana sull'ex segretario di Stato per appropriazione in debita. In realtà l'operazione finanziaria, seppur contorta, sembra non aver violato norme della Santa Sede, almeno di carattere penale. E se il cardinale stesso si difende dicendo che è tutto regolare, anche la voce ufficiale del Vaticano, quella del portavoce, padre Federico Lombardi, fa sapere che non è in corso alcuna indagine di carattere penale da parte della magistratura vaticana. Ma la Procura di Roma e il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno all'esame da tempo alcune operazioni finanziarie della LuxVide monitorata nell'ambito della più ampia inchiesta della magistratura romana che riguarda lo IOR, relativa a presunte violazioni della normativa antiriciclaggio. Anche se non vi è una specifica indagine sul prestito IOR LuxVide, la stessa Lux ha precisato in serata che non risulta nessuna indagine a suo carico e dei suoi amministratori. A scatenare il nuovo ciclone su Bertone è una risposta ambigua del direttore dell'autorità di informazione finanziaria del Vaticano, René Brühlart. Alla domanda della BID relativa alla presunta indagine vaticana sul cardinal Bertone, Brühlart ha risposto di non poter né confermare né smentire.